Sei un produttore d'olio? Da quando quest'oliva arriva al frantoio, inizia il lungo valser del processo amministrativo. E quello per la produzione d'olio è complesso e pieno di protocolli da seguire alla lettera. La prenotazione dei conferimenti e la parte contrattualistica, la molitura, lo stoccaggio, gli adempimenti fiscali, i registri telematici sono solo alcune delle fasi da organizzare. Continuare a gestire tutto con i metodi che usavano i nostri nonni o con più gestionali non integrabili e non comunicanti tra loro è come provare a spegnere un incendio con un bicchiere d'acqua. Vorresti rendere semplice tutta l'organizzazione del tuo lavoro e gestire ogni fase in modo ordinato in un'unica piattaforma? Ad hoc Oil è il gestionale realizzato da Cloud3 con zucchetti ideato appositamente per frantoie o leifici. L'intero processo aziendale è qui dentro, diviso per categorie e facilmente consultabile. Con Ad hoc Oil ottimizzi la produzione, aumenti i ricavi e diminuisci lo stress. Dimentica fogli di carta e dati ridondanti. Digitalizza la tua azienda con una soluzione innovativa che rientra nelle tecnologie 4.0 e che quindi gode di benefici fiscali e crediti d'imposta. Paura di non capire il funzionamento del software? Tranquillo, rimaniamo al tuo fianco per qualsiasi dubbio sull'utilizzo e sarai sempre aggiornato in caso di modifiche alle normative. In più, garantiamo la continuità operativa della tua azienda con un'assistenza costante e in tempo reale. Vuoi conoscere meglio tutte le funzionalità del nostro gestionale? Clicca qui per saperne di più.